Ciao a tutti, sono Lorenzo Ornagli e sono un ex stonto, almeno era così che mi chiamavano a scuola. Bene, ora potrebbero chiamarmi anche babbuino, anche perché sarebbe merito mio. Mi sono babbuinizzato, ho comprato infomarketing per babbuini e devo dire che è stata la scelta giusta, anche perché avevo un grande progetto che probabilmente non avrei mai portato alla luce senza queste informazioni, perché non sapevo proprio dove andare a parare. Qui ho tutte le skill che mi servono per arrivare con il mio progetto alla luce, quindi potrei dire che questo è il come che porterà alla luce il mio perché, quindi grazie a Big di questo corso, grazie della super offerta, grazie di averlo messo a questo prezzo perché è veramente regalato. Io vi invito a comprare il corso perché, ve lo ripeto, questo prezzo è veramente regalato e vi mando un saluto a tutti. Ciao!